Steven, mi ricordo quando avevi fatto la proposta donato di aprire la paniconoteca che poco dopo successe che gli chiusero il profilo TikTok e io in quel momento pensavo, cavolo, forse Steven allora ha fatto una cavolata a fargli questa proposta però tipo che spiga, cavolo sì, capito, nel senso di dire, eh, ora gli hanno chiuso il profilo, magari è passato quel momento e la cosa che mi ha sorpreso è che te hai continuato a crederci, no? e poi c'è stato questo successo enorme cioè, c'è avuto qualche dubbio in quei momenti quando gli hanno chiuso il profilo oppure? facciamo un passo leggermente indietro quando gli faccio la prima proposta, che va virale un po' ovunque che poi anche è stata presa da molti altri preditori come spunto per farla a loro volta a Donato in modo che Donato avesse davanti a sé una possibilità di scelta, no? non solo Steve, ma c'erano anche altri che si erano proposti Donato mi contattò in privato dicendomi, guarda, sei stato gentilissimo anche perché era inevitabile che mi rispondesse perché sotto l'hanno taggato 10.000 commenti mi ricordo è un disastro ma non perché volevano bene a me, perché volevano bene a lui e il suo, insomma, il suo fan medio, la sua community diceva, cavolo, cogli l'occasione di Steve e anche ti risolvi sì, mi ricordo e poi il treno che passa una volta è basso esatto, mi ricordo e lui che non mi conosceva invece perché Donato comunque è una persona un po' più grande ed edita il lavoro da 27 anni come salumiere quindi stava lì tutto il giorno, non è che stava a guardare chi era Steve e Masalai, no? quindi sai, arriva il momento che vede la mia proposta, mi contatta, mi ringrazia ma rifiuta con la, insomma, con la motivazione di voler fare un qualcosa da solo con la moglie insomma, da solo come giusto che sia meno male ma magari invece le poteva dare anche meglio, non si può sapere non lo so, non lo so però, niente, mi rifiuta la mia offerta dico, guarda, Donato, ci mancherebbe ottimi rapporti, anzi vero a trovarti buona fortuna passano poi due mesi e anche tre mesi tre mesi a fine estate mi ricontatta Donato dicendomi, guarda, sei l'offerta con la valida se ti va ci conosciamo, ci incontriamo ne parliamo un po' meglio di persona e capiamo le condizioni lui nel frattempo stava continuando a crescere no no, no lui nel frattempo anzi lui era proprio quel periodo dove aveva smesso di lavorare per la sua vecchia salumeria ed era due mesi, tre mesi sabatici dove nei suoi social portava contenuti anche un po' diversi perché ovviamente non avendo più a disposizione il banco da salumiere magari faceva vedere la sua vita quotidiana la moglie, i bambini e quindi aveva perso un po' il focus in quei tre mesi tanto è vero che poi io parlando con i miei social media maggi cavolo ok che adesso Donato è accettato comunque è aperto però è uscito dal personaggio da tre mesi non paura però magari ripensamento forse per un momento ormai poi mi ero talmente tanto esposto che era una cosa che mi gasava anche a me fare sinceramente quindi ho detto ok Donato vediamoci abbiamo deciso i nostri termini economici siamo diventati soci alla pari come non è un segreto ho sempre detto quindi siamo 50 io 50 Donato in questa realtà e poi lui ha anche uno stipendio da lavoratore in quanto socio operativo sul posto niente dai Donato facciamo qualcosa nel frattempo bam gli buttano giù il profilo profilo bannato non c'è più niente anche lì in alta mazzata abbiamo dovuto fare un lavoro insomma di recupero il profilo e poi con Nicolas andare a creargli comunque un ecosistema per proteggerlo per far sì che tutti i contenuti fossero studiati e lavorati in un certo tipo di modo come faccio io non è che io carico un video che sto mangiando la pasta per dire perché ogni video che faccio deve avere un messaggio è uguale a quello che abbiamo costruito con lui abbiamo poi iniziato a selezionare i posti quindi ovviamente per capire dove era meglio mettersi in modo geologico diciamo e abbiamo trovato questo immobile che era una buona opportunità l'abbiamo sistemato poi con tutte le dovute insomma avete fatto un ottimo un grande lavoro aperto accanto ai monti lattari l'avete fatto apposta guarda molti hanno visto che abbiamo aperto in parte al suo ex negozio io personalmente non sapevo manco di dove erano loro lui tantomeno non ha voluto fare questo come provocazione ma oggettivamente quella via lì che è la pigna secca dove siamo noi è la via più famosa di Napoli per discorso mercati quindi c'è chi vende il pesce la trippa l'avete fatto solo per un senso di business e la perfetta capito quindi niente è proprio contro gli ex datori che sono anche rimasti in buoni rapporti questa cosa di Donato con l'Ossenza Molica ha preso spunto da Tommaso Mazzanti l'antico te lo dico perché noi siamo vicini a Firenze lo conosciamo molto bene a parte l'antico vinaio stai cercando un po' di prendere quell'onda lì di fare un po' quello che ha fatto Tommaso guarda Tommaso l'antico vinaio non sono stati per me all'inizio uno spunto perché neanche io sapevo poi cosa effettivamente sarebbe diventata questa paninoteca salumeria però dopo quando ho visto in questi mesi questa scalazione la possibilità questo flusso di migliaia di persone al giorno che vengono a farsi la coda di tre ore per un panino ho detto cavolo qua si può replicare il business dell'antico vinaio è da lì che mi è scattato il vinaio adesso è il numero uno numeri pazzeschi con percassi gruppo percassi si parla non più di milioni ma di miliardi quindi è un altro livello rispetto no mezzo miliardo mi hanno detto però insomma 500 milioni quando? di fatturato? no 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 sì però la famiglia percassi dispone di un patrimonio di miliardare in conseguenza stiamo parlando di un altro tipo di livello rispetto a quello che siamo noi adesso loro stanno aprendo appunto in tutto il mondo ma è quello che volete fare ne aprirai un donato a Firenze non si dice guarda voglio cogliere questa occasione che mi hai fatto la domanda per insomma complimentarmi con Tommaso per il lavoro che ha fatto tra l'altro Tommaso lo aspetterei anche qua per l'Ulandia volentieri Tommaso ti aspettiamo io ho scritto anche in privato ci siamo sentiti sono stato da lui a New York adesso ci vedremo a Milano è un grande mi piacerebbe prendere sempre più spunto da lui per replicare Molico Senza salutiamo Tommaso tutti insieme bada come la fuma bada come la fuma e poi dicono ma tanti sai che pensano che io ho donato e abbiamo magari qualche attrito magari con una realtà del genere ma per noi non potrà mai essere un attrito perché a parte che sono due prodotti diversi fra di loro ma poi fateci caso bravo sono due prodotti diversi fra di loro ma perché le persone vedono competizione vedono il panino perché uno è una focaccia e uno è un panino vedono la stessa cosa prendete questo come spunto dove apro un McDonald's a 200 no 200 Burger King bravo vero quindi quello che io voglio fare con Tommaso è dove c'è lui ci sono anche io perché vuol dire che il territorio ne guadagna è un'altra cosa